questa è la terza stagione di studio che ci porta dritti nel futuro per imparare a sopravvivere al cambiamento perché non è la specie più forte o la specie più intelligente a sopravvivere ma è quella che si sa adattare meglio al cambiamento io sono andrea venturelli e vi guiderò in questo percorso nei prossimi dieci episodi di studio parleremo di industria 4.0 stampanti 3d parleremo di intelligenza artificiale robotica parleremo di digital detox parleremo del futuro del nostro lavoro parleremo di growth hacking e di come far decollare i nostri progetti e poi ancora parleremo di tecnologie smartphone cercheremo di capire come fare delle ottime presentazioni e riuscire a vendere le nostre idee come creare un'azienda lavorare in remoto e vivere dove ci pare e infine come sviluppare la nostra attività e i nostri progetti online questa è la terza stagione di studio ogni martedì alle 14 ti aspetto